Ogni istante è infinito. Noi, noi che siamo effimeri, che viviamo nell'effimero e dell'effimero, non foss'altro per la pratica della divinizione, l'arabo avvero è che il gran cominto feo, e Mosè Maimonide, ebreo autore della guida dei perplessi, entrambi di Corso, loro scopo del nostro vivere è creare il nostro contrario, creare il duraturo con le fine.